In una storia toccante e commovente, Maria De Filippi ha affrontato una sfida estremamente difficile. La coraggiosa conduttrice, nonostante la voce rotta dalle lacrime, ha dimostrato una straordinaria forza interiore che l'ha spinta a continuare. Per un lungo anno e mezzo, ha affrontato questa prova con coraggio e determinazione, un esempio di resilienza che ha ispirato molti. Prima di continuare vi chiediamo gentilmente di lasciare mi piace e iscrivervi al canale. Grazie di cuore. Nel frattempo, un'altra parte importante di questa storia è stata il suo impegno costante a fare visite regolari a suo padre, cercando di stare al suo fianco il più possibile. Nel frattempo, suo fratello è rimasto nel parcheggio dell'ospedale, tormentato dalla paura di entrare in quelle mura che rappresentavano la malattia. Questa difficile situazione ha segnato profondamente la loro famiglia, lasciando cicatrici emotive indelebili. Maria De Filippi, dopo aver attraversato il dolore della perdita, ha riflettuto sulla natura del lutto che ci accompagna per tutta la vita. Ha imparato a convivere con il dolore e a trovare il modo di elaborarlo, un percorso personale e difficile ma necessario per poter andare avanti. Purtroppo, il tumore che ha colpito il padre non ha lasciato scampo, e la morte di Costanzo ha riportato a Maria il dolore della terribile perdita. Tuttavia, nonostante tutte le avversità, la donna ha trovato la forza dentro di sé. Ha scelto di utilizzare la sua esperienza come fonte di ispirazione e sostegno per il suo pubblico, dimostrando un'eccezionale resilienza e determinazione nel superare le difficoltà. Grazie per aver dedicato il vostro tempo a guardare l'intero video. Se avete apprezzato il contenuto, vi chiediamo gentilmente di mettere, mi piace, e di lasciare un commento con le vostre opinioni. Siamo interessati a conoscere le vostre riflessioni e a discuterne insieme. Non dimenticate di premere il campanello per rimanere aggiornati sulle prossime novità e pubblicazioni. Ci aspettiamo di vedervi presto nei prossimi video, dove condivideremo altre storie ed esperienze altrettanto coinvolgenti e ispiratrici.